buonasera allora partita terminata l'abbiamo portata finalmente finalmente dico finalmente perché mancava da un mese abbiamo portato questa vittoria questi tre punti a casa a casa la Juve vince con Lecce e fa un'ottima gara un'ottima partita bene 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 tutti hanno giocato un'ottima partita tutti dalla difesa da Bonucci, Bremen quadrato, recuperi poi al centrocampo bellissimo, bella partita di Miretti anche se ha giocato bene andiamo a cercare scuse ha mangiato oro, gol, cose come avete fatto l'altra volta con Bologna beccavano di esperienze peccano ancora tuttora di esperienze ma lo stesso si vede i giocatori ci sono i giocatori giocano e sono buoni e non c'è bisogno di mandarli a altre parti per fare esperienze teniamoli teniamoli perché questi sono il futuro specialmente fagioli signori specialmente fagioli non facciamo una cazzata di perdere questi questi grandissimi giocatori perché stanno dimostrando veramente di avere carattere gioco piedi testa veramente gol di Paredes signori gli faccio i complimenti ci ha provato altre due volte quella punizione la seconda l'avrei fatta battere o a Vlaovic o a Pogba perché Paredes lo vedo più per provare in punizione un po' più centrali magari con un po' di più potenza ma quei tiri da lì magari un po' troppo sulla sinistra avrei provato con Vlaovic o magari Pogba stesso o Danilo o Danilo comunque un buon Paredes è giocato una buonissima partita tutti anche subentrati speriamo l'infortunio e il deciglio che non sia niente niente non credo però che non sia qualcosa di grave molto grave mi dispiacerebbe signori questi tre punti ripeto sono strameritati l'allenatore cioè quando gli devo dare i suoi contro ma adesso non ci posso dare contro niente ha preparato una buonissima partita una buonissima squadra impostata in campo buon gioco fino all'ultimo ci abbiamo provato ma ci ha provato anche il Lecce ma ecco noi cerchiamo di restare secondi loro cercano la salvezza perciò è normale è una partita un po' sale e pepe e ci sa tantissimo signori queste ripartenze del Lecce queste signori si è venuto a giocare la partita il Lecce ed è giusto ed è giusto che sia sempre così comunque noi l'abbiamo già giocata e l'abbiamo già meritata il VAR come al solito indifferentemente come la canzone a noi ci annulla subito un gol per me regolare quello di Miletti sono inventati questo pollice che era avanti quello di del Lecce che era un fuorigioco da due persone avanti non una persona ma due persone cioè parliamo di un metro di differenza se la sono presa comoda e ancora il VAR pensava se annullando o annullando poi hanno visto che era troppo evidente come facciamo e minchia di cinchia porca buttana e allora già ci stavano castigando subito signori subito e i primi due tre minuti già ci volevano ci volevano castigare comunque signori meriti a tutti do più della sufficienza a tutti ripeto e niente ci lasciamo così adesso aspettiamo la partita contro l'Atalanta stasera ci sono i cattonati c'è il Milan i cartonati domani il Napoli dovrebbe andarsi a prendere lo scudetto a Udile credo anche dobbiamo aspettare cosa faccia la Lazio e niente signori con questo è tutto vi auguro un buon proseguimento di serata iscrivetevi al canale azionate la campanellina lasciate un commento un like se vi è piaciuto il video sempre 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 forza Juventus fino alla fine buonanotte grazie a tutti